Le tradizioni sono una cosa molto legata a noi calabresi e che ovunque siamo noi nel mondo dobbiamo portare le tradizioni ed ecco che per Natale arrivano i turdilli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I turdilli li mettiamo al forno perché abbiamo richieste di persone che non mangiano in fritto e che li graviscono al forno, li abbiamo già provati l'anno scorso e devo dire che sono veramente squisiti. Grazie a tutti. Allora la prima sfornata dei turdilli è avvenuta. Sono belli dorati e adesso passiamo alla seconda infornata. E i nostri turdilli infornati, eccoli qua, sono stupendi. Adesso li poseranno tutta la notte e domani via col miele. Buon Natale a tutti. Ciao.